Per i fanesi e non solo, il martedì di Pasqua lo si trascorre nella pineta di Ponte Metauro. Come ogni anno si tiene qui la festa della Madonna del Ponte in onore di Maria Venerata nel santuario del Ponte Metauro, trascorrendo il tempo tra un pranzo al sacco, una pesca di beneficenza e momenti di preghiera. Tantissima gente è arrivata come sempre sin dalle prime celebrazioni del mattino in questo luogo di raccoglimento e di spiritualità palpabile. Anche chi ormai dovrebbe essere a suo effatto a questo fiume di devoti, come il parroco Don Antonio Biagioli, rimane ancora incantato per la venerazione di questo posto. Cambiando la vita e anche le generazioni, questa festa poi pian piano si sbiadisca e perde un pochino il suo senso. Invece non è così. Io per dire da questa mattina abbiamo cominciato ininterrottamente, messe un'ora dopo l'altra, è stato pieno di persone, ma pieno, nonostante l'inclemenza del tempo e sono convinto che anche questa sera quando verrà il Vescovo non sapremo proprio dove mettere la gente. insomma non tutti i posti sono uguali, mica è vero che tutti i posti sono uguali. Ci sono dei posti, questo non sarà né Lourdes né Fatima, però ci sono molti posti cari alla Madonna e cari alla popolazione di Fano perché non è che sono parrocchiani nostri, quelli nostri sono una parrocchietta piccola, ma vengono sempre ricordandosi di questo appuntamento. Mi piace tutto, quindi... Quindi non viene solo per la festa? No, no, io ci sono sempre, tutte le domeniche. È un bel luogo, un bel... Sì, anche con Don Antonio abbiamo un buon rapporto. La festa è la festa un po' di tutti voi? Eh, sì, certo. E quindi è un posto di famiglia? Eh, sì, io sono nata qui, sono venuta sempre qui, c'era Don Gualfardo, poveretto che io lo amo, lo stimo, perché era veramente un bravo sacerdote. Però c'è tanta gente che viene qui anche da fuori. Sì, è vero, io non so cos'è questo luogo, è qualcosa che non si può fare a meno di venirci in questa ricorrenza, insomma. Grazie a tutti.